Vaccini, tamponi e anche la pulizia del campo. E quanto deciso nel corso del vertice in prefettura a Foggia, la presenza del prefetto Carmine Sposio, il procuratore e capo Ludovico Vaccaro, dei vertici delle forze dell'ordine, del sindaco di Stornara Roccolo Calamita e del presidente della regione Michele Emiliano. Nel vertice si è parlato della tragedia di Stornara quando venne riscorso in una baraccopoli e scoppiato un incendio che ha ucciso due fratellini bulgari di 4 e 2 anni. Il prefetto di Foggia ha dato disposizione alla ASL di dare supporto nel campo per effettuare vaccinazioni, tamponi e verificare assieme alla questura qual è la condizione generale dei bambini che sono presenti nel campo. Dopodiché la seconda questione alla quale ci siamo occupati è la gestione della pulizia del campo dai rifiuti, questione che affronteremo col sindaco e con il sostegno anche da parte della regione e ovviamente in un secondo momento quando la situazione del campo di Stornara sarà in qualche maniera messa sotto controllo faremo anche l'anagrafe di tutte le situazioni simili presenti in provincia di Foggia con un programma di insediamento o di sistemazione di questi cittadini che sono cittadini europei, lo ricordo, che quindi hanno per regole della comunità europea il diritto di stare in qualunque luogo dell'Unione Europea e di vivere ottenendo tutti i servizi che sono necessari per i bambini, per gli adulti, quindi sanità, scuola, tutta una serie di situazioni che evidentemente in questo frangente sono state del tutto trascurate, quindi abbiamo preso un impegno sulla memoria di Birka e Cristian nei confronti di tutti i bambini in modo particolare che sono ospiti di questi campi che hanno diritto ad una vita assolutamente diversa.